Luigi Emanuele Corvetto si colloca all'interno della cultura giuridica, naturalmente la cultura giuridica ligure, però in genere la cultura giuridica italiana ed europea a cavallo tra la fine del Settecento, l'ultimo tratto dell'Antico Regime, e della cultura giuridica di diritto comune, e l'inizio dell'Ottocento, che è una fase della storia giuridica tutta fatto differente, condizionata dalla codificazione del diritto, del superamento del diritto comune. Lui è giurista a cavallo della rivoluzione, una rivoluzione che attacca sicuramente i professionisti del diritto, li critica profondamente, critica i giudici e gli avvocati come componenti integranti dell'Antico Regime, però d'altra parte sono proprio gli avvocati, i giuristi, sia a Parigi, sia nelle province più remote del triennio rivoluzionario, sono proprio i giuristi ad essere protagonisti di questa nuova fase. Sappiamo un ruolo importantissimo che avranno gli avvocati nelle assemblee rivoluzionarie, in Francia in particolare. Quindi è un periodo molto complesso in cui troviamo inserita anche la vicenda personale e anche professionale, in qualche modo, di Corvetto. Va detto che in particolare Corvetto è un giurista ligure e genovese, dunque da una parte un esperto di alcune tematiche tradizionali della cultura giuridica ligure, in particolare il diritto commerciale. Dall'altra parte una certa sensibilità al diritto scritto, alle fonti statutarie, tipiche della tradizione genovese, e quindi a una idea del diritto che possa essere reso in una forma di diritto scritto codificato, in qualche modo. Adesso vedremo come queste due componenti le ritroviamo nella vicenda specifica di Luigi Emanuele Corvetto. Nasce nel 1756, riceve l'istruzione inferiore presso gli scolopi, si dedica a quel punto agli studi giuridici, anche se non appartiene, non è una tradizione familiare da questo punto di vista, come era abbastanza normale tra i giuristi e da chi si dedicava all'attività professionale di avvocato, in particolare il papà di Corvetto è un architetto. Dopo aver concluso i suoi studi giuridici, inizia a lavorare come avvocato, affermandosi praticamente subito, e coltiva particolari rapporti, in particolare dopo il 1789, con la legazione francese a Genova. E in genere è legato agli ambienti politici più innovatori. lui rimane e rimarrà sempre un moderato, ciò nonostante effettivamente si lega anche in periodo ancora di antico regime agli ambienti appunto che vedono l'opportunità di una trasformazione dell'ordinamento giuridico, istituzionale, sociale della Repubblica aristocratica. In particolare, non nasconde le sue vicinanze politiche, nel 1794 difende Luca Gentile, che era stato uno dei capi della cospirazione antioligarchica appunto nel 1794. Nel 1794 inoltre Corvetto lavora a un testo giuridico importante che è un progetto per la formazione di una camera di commercio. Certamente va incontro alle esigenze espresse da una classe mercantile comunque dinamica, ma che in una situazione come quella della Repubblica oligarchica, della Repubblica aristocratica dell'ultima fase, della fase conclusiva del suo percorso istituzionale, è una Repubblica oligarchica che comunque riserva ai mercanti in quella fase, agli operatori economici, spazi abbastanza stretti di autonomia. La Camera di Commercio per come la presenta Corvetto nel 1994 viene respinta dagli organi di governo della Repubblica, dai collegi, quando la ritengono totalmente, il sistema di Camera di Commercio che propone Corvetto come totalmente opposto al sistema di governo della Repubblica. All'indomani della Rivoluzione, a Genova, quindi dopo il 1797, troviamo Corvetto, membro del governo provvisorio, quindi immediatamente coinvolto nelle trasformazioni istituzionali e politiche a Genova. e diventa in particolare nel Comitato delle relazioni estere personaggio leader e quindi rafforza la sua posizione, il suo ruolo di interlocutore principale dei francesi a Genova. Nella fase politica successiva è presidente del direttorio esecutivo ma sempre appunto assumendo incarichi sembrerebbe quasi più subendoli, dovendo insomma accettare degli inviti a essere coinvolto che sembra non gradire sempre, non gradirli veramente. Tant'è vero che fin da questa fase comincerà a farsi la fama di uomo certo moderato, con grandi capacità di compromesso, ma anche qualche accusa di pavidità, di volersi tenere fuori dal gioco politico, anche se poi di fatto viene sempre coinvolto e ha un livello piuttosto elevato. Gli si riconosce comunque sia disinteresse personale, questa sarà una tipica cifra che troveremo fino alla fine del suo percorso. Ecco, il dato costante è una vicinanza sempre più stretta ai francesi e in particolare un contatto sempre più stretto proprio con Napoleone Bonaparte. In questo periodo si sofferma su un'altra grande istituzione della Repubblica Aristocratica, della tradizione, e nel 1799 appunto pubblica un saggio sopra la banca di San Giorgio. Si difende un'antica istituzione della Repubblica Aristocratica, ma dall'altra parte se ne auspica una profonda trasformazione. Nel 1799, peraltro, Corvetto è invitato a partecipare a un'altra impresa legislativa. Sull'onda del 18 Brumaio vi è la sospensione del corpo legislativo, l'accessazione del direttorio e del territorio esecutivo. Si istituisce una commissione di governo che ha l'impegno di predisporre un nuovo assetto istituzionale e proprio a Corvetto è dato l'incarico di predisporre un nuovo progetto di costituzione a cui lui adempie con una serie, anche aggiungendo a questo progetto, una serie di osservazioni. Nel 1800, nell'anno 1800, durante l'assedio austro-russo, è commissario del governo presso Massena e fissa le condizioni di resa ai coalizzati. Un momento di crisi, naturalmente politica e militare per i francesi, ma quando i francesi ritornano a Genova, Corvetto viene immediatamente inserito nella consulta che deve provvedere a una nuova organizzazione della Repubblica e a quel punto Corvetto propone semplicemente un riadattamento della Costituzione francese di Brumaio alla realtà ligure. Con l'annessione di Genova alla Francia, è nominato Presidente del Consiglio di Dipartimento di Genova, ma già il 30 ottobre 1805 è chiamato direttamente a Parigi per far parte del Consiglio di Stato e con questo inizia una nuova fase nella vita di Corvetto nel suo impegno istituzionale essendo inserito in un importantissimo organo di governo francese. Il Consiglio di Stato è già stato istituito nella Costituzione dell'anno ottavo e è un organo consultivo del governo consolare. I suoi membri del Consiglio di Stato sono nominati e revocati dal primo console quindi dietro la sua nomina c'è naturalmente la scelta specifica di Napoleone Bonaparte. Il Consiglio di Stato ha un compito molto importante nel redigere i progetti di legge ma anche i regolamenti amministrativi e avrà anche delle funzioni di giustizia amministrativa. Inizialmente sono stati nominati 29 consiglieri divisi in tre sezioni con competenze differenti e appunto con esigenze anche di dare rappresentanza ai dipartimenti non francesi viene chiamato a partecipare anche l'utente presente che un terzo degli appartenenti al Consiglio di Stato sono effettivamente giuristi quindi è un luogo dove Corvetto trova una collocazione molto appropriata. Nel tempo teniamo presente che con la Costituzione dell'Impero Napoleone successivamente sarà nella condizione di nominare veramente a suo totale arbitrio i consiglieri di Stato in un numero assolutamente indeterminato a suo piacimento diciamo così. Nel complesso diventeranno consiglieri di Stato tanto per darevi un po' le proporzioni diventeranno consiglieri di Stato durante tutto il periodo napoleonico fino alla sua conclusione 110 appunto soggetti ripeto sempre con una presenza piuttosto forte dei giuristi in particolare tra 1802 e 1811 arriveranno dall'Italia 11 consiglieri di Stato in questo contesto vedremo che Corvetto lavora al Code Commerce a uno dei dei grandi codici del periodo napoleonico anche qui sulla base di un'esperienza che è un'esperienza tipicamente genovese quella del diritto commerciale un diritto commerciale che era stato fin dall'inizio uno dei compiti principali dell'attività giurisdizionale della Rota Civile di Genova in particolare per la progettazione del Code Civil in Francia era stata istituita una commissione nel 1801 aveva redatto questa commissione un primo progetto un progetto che poi era stato diffuso presso le varie corti francesi oggetto di osservazioni si era realizzato un secondo progetto che era stato pubblicato con una particolare specifica analisi e dopo questa fase progettuale originaria questo codice di questo progetto di codice di commercio era stato affidato al Consiglio di Stato appunto nel Consiglio di Stato se ne doveva occupare la sezione dell'interno perché perché la materia del commercio era materia della sezione dell'interno del Ministero degli Interni quindi di quella parte specifica dell'apparato amministrativo francese e lì opera effettivamente Corvetto proprio nella sezione dell'interno del Consiglio di Stato Corvetto quindi attende a questo tipo di opera e quando si tratta di presentare il testo al corpo legislativo ed è necessario che ci sia appunto anche un rappresentante del Consiglio di Stato questo rappresentante sarà appunto Luigi Emanuele Corvetto diciamo che il codice di commercio aveva avuto già nella fase progettuale il contributo di un importante giurista italiano Domenico Alberto Azzuni e poi nella fase di rilaborazione presso il Consiglio di Stato appunto ci aveva lavorato su Corvetto nel senso che chiaramente la materia giuscommercialistica è una tipica materia di competenza dei giuristi italiani i giuristi italiani avevano una particolare vocazione a questo ambito avevano tra di loro erano dei giuristi particolarmente formati su questi temi e tra questi appunto sicuramente c'è anche Corvetto Corvetto in particolare si era occupato all'interno del codice di commercio della parte marittimistica dei contratti marittimi in particolare il contratto la GROS il contratto di cambio marittimo e il contratto di assicurazione su questi temi lui era intervenuto sulla base anche della competenza tipica di un giurista genovese noi genovesi avevano una particolare autorevolezza da questo punto di vista possiamo dire che in quel contesto la realizzazione del primo codice di commercio vero e proprio troviamo la competenza della scienza della cultura giuridica genovese che aveva avuto importantissimi antecedenti pensiamo alle ponderazioni sopra la contrattazione marittima di Carlo Targa o il discursus legales de commercio di Lorenzo Maria Casaregi la giurisprudenza della rota civile di Genova in materia mercantile che ha una eco continentale quindi è quasi una presenza quasi naturale il 29 agosto 1807 in persona Corvetto presenta una nuova redazione di questa seconda parte del codice di commercio e viene approvata dal consiglio di stato e appunto Corvetto in una fase successiva presenterà questo progetto che è passato attraverso il vaglio del consiglio di stato appunto al corpo legislativo con questo sicuramente Corvetto si colloca nel cuore della nuova stagione della storia giuridica europea quella della codificazione in un luogo assai opportuno il codice del commercio pubblicato appunto promulgato nel 1807 esiste poi anche un Corvetto per quanto possa sembrare strano penalista questo usciva dalle sue competenze più proprie lui non aveva un'esperienza professionale da penalista però sicuramente anche il penale era una tipica materia da giuristi italiani era la cultura giuridica italiana che aveva elaborato nuove tendenze della gius penalistica pensiamo al peso dell'opera di Cesare Beccaria c'era un giurista importante italiano nel consiglio di stato nella sezione dell'interno in realtà non nella sezione di legislazione che lavorava agli altri codici però siccome ci si occupa di questo tema anche in seduta comune ecco che Corvetto ha la possibilità di occuparsi di questi temi per altro verso partecipare nella discussione per altro verso Corvetto partecipa anche a un'altra attività tipica del consiglio di stato nel 1811 diventa e parte di dei consiglieri di stato che devono occuparsi delle ispezioni delle cosiddette prisondetà che sono delle particolari istituti di pena in realtà delle sezioni specializzate in cui vengono ristretti soggetti che sono colpiti da particolari provvedimenti di polizia non da provvedimenti giurisdizionali quindi con una serie di problemi di garanzie ma insomma soggetti che creano problemi all'ordine pubblico e come avveniva in antico regime con l'elettro de cachet con un provvedimento di polizia vengono appunto ristretti incarcerati siccome ci possono essere dei problemi di abuso piuttosto forte si predispone un sistema di controllo di verifica sulla le circostanze per le quali queste persone sono state effettivamente private da libertà personale ed ecco che si affida ai consiglieri di stato a turno un compito di controllo nel 1811 questo compito tocca proprio a Corvette che quindi comincia a doversi occupare il suo malgrado di questioni legate all'ordine pubblico al diritto penale nel 1811 l'anno dell'ispezione di Corvette dalle prisione d'età verranno chiamate anche nuove bastiglie verranno fatte uscire 545 persone e sappiamo che ebbe contatti visitò come si dice qualcosa come 300 poco più di 300 imprigionati nello stesso periodo ripeto ci si occupa in consiglio di stato anche di codice penale quello che sarà il codice penale napoleonico del 1810 un codice penale assai poco illuminista in realtà che verrà molto attaccato dalla cultura giuridica successiva il frutto meno luminoso della fase della codificazione napoleonica anche se rappresenterà un passaggio in realtà dal punto di vista tecnico molto importante quando il progetto di codice penale passa al vaglio del consiglio di stato in assemblea congiunta in seduta plenaria Corvetto interviene su alcuni punti palesemente portatore di una civiltà giuridica particolarmente raffinata come quella italiana nel campo penalistico per esempio si occupa di un tema oggi diremmo di parte generale cioè del tentativo cerca di spiegare perché il tentativo il reato solo tentato debba essere punito in maniera più attenuata come ci sia differenza tra reato tentato e reato consumato e come questa differenza deve essere applicata a tutte le categorie di reato è un contributo è un contributo importante in realtà si scontra contro grandi personalità perché ha opinioni differenti da Cambasserès per esempio dall'arci cancelliere dell'impero peraltro grande giurista e quindi non la sua posizione più avanzata più progressista diciamo si scontra con una visione del penale ormai piuttosto arretrata ripiegata rispetto alle istanze dell'illuminismo giuridico questo è tipico della fase imperiale napoleonica per esempio lui si oppone anche a una sottolineatura all'interno del codice dei lavori forzati si oppone all'applicazione di pene accessorie come la berlina tipico modo di esecuzione della pena contestatissimo dagli illuministi ma che adesso torna ad essere di moda diciamo così perché dice questa non è una pena accessoria una pena aggiuntiva particolarmente infamante interviene per esempio su un tema se volete settoriale dal punto di vista penale però emblematica anche la sua posizione tenete presente che il codice penale 1810 l'adulterio è reato però è reato solo se compiuto dalla moglie non se compiuto dal marito salvo casi specifici ebbene su questo interviene Corvetto non può intervenire su questa disparità tra moglie e marito però riesce insomma a far sì che almeno il marito che sia stato adultero sì non sia responsabile penalmente ma almeno a sua volta non possa denunciare la moglie per adulterio ci sembra una cosa come dire un ben magro risultato però anche qui Corvetto si pone sul fronte diciamo dei innovatori dei progressisti degli illuministi in qualche modo quindi un Corvetto che non è penalista che però viene chiamata a intervenire anche su questo in questo in questo settore che bilancio possiamo fare di questa fase di contributo di Corvetto alla codificazione del diritto si confermano in lui questi atteggiamenti di moderatismo di pragmatismo e diciamo queste 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 dosi di pragmatismo molto forte di moderatismo una fama di grande onestà personale significa anche gettare le basi per il ruolo che poi lui avrà durante la restaurazione senza ombra di dubbio dopo la fine della fase napoleonica sappiamo che gli viene chiesto di rimanere in consiglio di stato riceve delle proposte anche dalle autorità sabaude ma preferisce rimanere appunto in consiglio di stato andando a presiedere la sezione delle finanze e qui incomincia a esserci uno spostamento di interesse di Corvetto sempre in realtà nell'ambito diciamo economico finanziare durante i 100 giorni rimane assai in disparte non prende partito e conclusi i 100 giorni però diventa addirittura ministro delle finanze e qui c'è la stagione seppur breve di Emanuele Corvetto nella storia francese nella storia di istituzioni francesi come appunto ministro delle finanze e qui ha un ruolo importantissimo perché si tratta di costruire le finanze francesi dopo il vortice napoleonico in particolare crea la cast d'amortismon la cast d'amortismon è un strumento istituzionale appunto per gestire il debito pubblico e per poi contribuire anche alla ricostruzione della amministrazione pubblica francese diventa grande ufficiale della legione d'onore ministro di stato e poi incomincia però a subire una serie di attacchi politici dovuto anche una serie di rovesci di tipo economico finanziario di quel periodo ecco che a quel punto siamo nel 1820 Corvetto decide molto amareggiato decide di rientrare a Genova rientra a Genova in condizioni economiche modeste viene ospitato da una figlia e il prototipo raro di un politico che non si è minimamente arricchito personalmente questo però ne costruisce anche il mito morale diciamo e morirà appunto a Genova nel 1821 questa di Corvetto è una vicenda che oltre a lasciare una traccia nella storia istituzionale francese lascia anche che è un ricordo importante nella storia italiana una delle dei fatti più particolari legati a Corvetto dal punto di vista della storia della cultura è la pubblicazione da parte di Meuccio Ruini di un testo con un titolo molto asciutto Luigi Corvetto genovese ministro restauratore delle finanze di Francia 1756 1821 Meuccio Ruini nel 29 era stato un giurista ma anche una laurea in filosofia un uomo politico molto impegnato che durante il fascismo deve essere come dire esule in patria viene fatto fuori dal dal proscenio politico per le sue posizioni appunto di antifascista collaborerà peraltro alla formazione del comitato di liberazione nazionale e Meuccio Ruini sarà Meuccio Ruini nasce nel 1877 e muore nel 1970 e sarà anche nella commissione dei 75 che scrive la nostra costituzione è uno dei nostri padri fondatori della nostra repubblica è interessante lui scrive varie cose di tipo storico ma è interessante che avesse scritto proprio nel 1929 quest'opera su Corvetto personaggio in realtà abbastanza sconosciuto a livello nazionale ci si chiesti come mai Meuccio Ruini perché non è così espressa come mai Meuccio Ruini si interessi proprio di Corvetto ebbene è interessante proprio perché proprio in questa fase storica di grande difficoltà nella politica italiana in un Meuccio Ruini che appunto si sta allontanando dalla politica è una chiave appunto di posizione antifascista Corvetto è visto come un modello un modello di portata ben più che locale genovese ma addirittura di portata nazionale se non continentale infatti si insiste sulla sua presenza in Francia un moderato ma nello stesso tempo un novatore capace di raccogliere le istanze più importanti dell'illuminismo di portarle avanti anche nella fase successiva e poi una personalità di politico dal punto di vista morale assolutamente inattaccabile un modello di modo di interpretare il servizio alle istituzioni pubbliche alla politica nella visione di Meuccio Ruini anche non è quella di Corvetto naturalmente anche alla democrazia ecco perché diciamo la figura di Manuel Corvetto va ben al di là della cronaca della cronaca politica e diventa chiaramente si colloca all'interno di un pantheon nazionale di personalità di riferimento dell'opera di Meuccio Ruini c'è stata recentemente negli anni scorsi una ristampa da parte del mulino è questa fatta dal consiglio nazionale forense all'interno della sua collana sulla storia dell'avvocatura in quanto appunto sia Ruini da una parte sia dall'altra parte anche proprio Corvetto anche per i giuristi per gli avvocati in particolare come erano tutti e due come era stato in maniera molto prestigiosa Corvetto beh questa figura di Genovese illustre rappresenta un riferimento molto importante di Genovese